buongiorno e buona giornata a voi tutti cari amici fan al vostro Nicola De Lucini iniziamo questa nuova giornata parlando di pallavolo maschile la nostra SDG da vola e tranche in camera al sesto successo di fila nel campionato di prima divisione maschile di pallavolo battendo per 3 a 0 a domicilio in trasferta la SDFLV Cerignola quindi continua il cammino netto di successi e soprattutto è al secondo posto a quota 26 punti un rendimento stagionale molto positivo con 8 successi sulle due sconfitte a sulle quattro lunghezze la capolista Bitondo nel prossimo impegno i nostri ragazzi saranno impegnati in casa contro l'intrepida volle che credo dovrebbe essere una squadra di brindisi che occupa la terza posizione quindi scontro diretto a quota 24 punti la gara si discuterà tra quattro giorni il 15 febbraio alle ore 18 ora vi dico il luogo la palestra Idesadomuro quindi chiudiamo il video ribadendo sesto successo di fila per la SDG da vola e tranche vince anche a Cerignola ciao a tutti